Caro Casini, questa è una frase bellissima, me la sono segnata, perché nella vita penso che dobbiamo tenerla a mente questa frase. Meglio sbagliare insieme che aver ragione da soli, me la veramente me la sono segnata. Lei è proprio un uomo saggio è diventato, Casini come sta? È un'involuzione che ho avuto negli anni, più invecchio e più divento saggio, più mi allontano progressivamente dalla politica, più acquisto saggezza, il che dovrebbe far riflettere amaramente sul fatto che sei poco saggio quando sei nel lagone. Pensi che c'è un sacco di gente che ha fatto qualunque cosa per non allontanarsi dalla politica. Il problema vero è che sta diventando saggio anche Verderami, che era considerato una specie di giamburrasca del giornalismo, oggi è diventato quasi un monumento anche lui, per cui stiamo invecchiando, questa è la cosa mara da dire. Infatti siete un po' canuti, però avete ancora il vostro charme tutti e due. Grazie. Grazie, abbiamo bisogno di tenerci su. Allora Casini mi dica una cosa, dato che lei continua a dire che si può fare pace con Renzi, io esco da una discussione in cui Gianrusso ha ripetuto circa 30 volte che tutto il pasticcio in cui siamo, che è un pasticcio vero, perché noi abbiamo detto fino adesso con Verderami, con Alan, che qua dobbiamo trovare problemi enormi e stiamo bloccati a sapere come troviamo i senatori, è tutta colpa di un unico assassino. Matteo Renzi, che ha fatto una congiura di palazzo. Però non hanno usato il termine assassino. Vabbè, insomma, l'ha usato Verderami, l'Oriente Express e l'assassino. Ha fatto una congiura di palazzo di cui tutti stiamo pagando i danni. Quindi la vedo complicata questo suo slancio ecumenico di fare pace con Renzi e fare una maggioranza coesa. Ma guardi che il buonsenso è sempre in minoranza, per cui non mi meraviglio di non essere ascoltato e anche di avere molto difficoltà a far passare queste mie idee. Il problema vero è che sono idee di cui sono convinto e continuo a dichiararle. Secondo me da questa crisi usciamo tutti più deboli. Esce più debole Matteo Renzi, esce più debole il governo, esce più debole il Presidente Conte, esce più debole l'Italia. È la mia opinione, se sono in minoranza o se sono isolato mi dispiace molto, ma è esattamente il mio pensiero, per cui non posso che confermarlo. Aggiungo che il fatto che tutto sia responsabilità di una sola persona è un pochino una tesi di comodo. Si trova un capro espiatorio e poi tutti danno il calcio dell'asino. Credo che la questione sia un pochino più complicata. Complicata perché Renzi, che ha tutti i difetti del mondo e che non ha certo bisogno di avvocati difensori, perché si difende da solo, anzi è sempre la TV, per cui si difende ogni minuto. Bene, nonostante questo credo che il problema sia più complesso, perché Renzi è da tempo che ha posto dei problemi, è da tempo che questi problemi sono stati rinviati invece che risolti, è da tempo che questi problemi dovevano essere risolti. E io aggiungo anche questo. Il Presidente del Consiglio ha gestito la crisi a rallentatore. Ora, lo dico da parlamentare che lo ha sostenuto col mio voto in Parlamento, ma la crisi andava gestita con l'acceleratore, cioè esattamente prendendo il toro per le corne e magari ponendo le premesse per un conte ter. E a quel punto sarebbe stato più debole anche Renzi. E la maggioranza avrebbe trovato motivi di coesione rinnovata. Invece oggi ci troviamo che siamo in una debolezza complessiva e siamo attenti al palottoliere. Questa mattina tornano sui giornali, ormai ci sono da una settimana in modo fissi, tutta la contabilità, questo potrebbe far quello, la promessa, l'altra cosa. Ma è un modo veramente degradante. Io credo che da questo punto... Insomma, basta, ho genito tutto. Allora, migliore volevo dire una cosa, che l'ho tenuto al freddo un sacco, migliore.